E l'attesa per tutti i fan della grande mina è quasi finita, arriva infatti domani il nuovo album di inediti Ti amo come un pazzo, in esclusiva al TG1, ascoltiamo il brano Non ho più bisogno di te. Caterina Proietti E invece noi abbiamo ancora bisogno di Mina, abbiamo bisogno di queste sversate musicali e poetiche. Mina ci consegna Ti amo come un pazzo, album ironicamente melodrammatico, con storie d'amore tormentate e perdute. Ti amo come un pazzo il primo disco di canzoni inedite dopo il successo Mina Fossati. Mina continua questo lavoro di selezione di nuove canzoni e nuovi autori, è un lavoro che ha sempre fatto nella sua discografia, fin dagli anni 60 e 70, con quelli che poi sono diventati i grandi cantautori, e oggi continua a farla con i ragazzi più interessanti, per esempio Blanco. Che poi ci siamo trovati sotto un piano di luna La contemporaneità, l'intendere il presente in modo appassionato, la ricerca puntigliosa di giovani talenti, è un seme che Mina fa sbocciare ogni volta con la sua voce, con gli arrangiamenti di canzoni dimenticate, musica che rigenera se stessa e noi. Per un briciolo di allegria Grazie mille!